E allora ciao Pino, sono Giacomo da Carrara, lo scorso mese c'è stato il compleanno di mia figlia Alberta e come regalo le ho fatto il viaggio negli USA con il biglietto in prima fila per il concerto di Justin Bieber, costo totale dell'operazione 1500 euro, inizialmente lo credevo esagerato per una ragazza di 17 anni, ma poi mi ha fatto sentire le sue canzoni e mi sono ricreduto, è veramente un grande artista, tu cosa ne pensi da Giacomo? Giacomo io spero che stai scherzando, che questo è uno scherzo, Justin? Parliamo di musica per favore, dai, parliamo di musica, probabilmente se tu hai mandato tua figlia a sentire un concerto di Justin Bieberon qua, probabilmente di musica non ne sei un cazzo neanche tu, è questo il problema delle nuove generazioni, non hanno dei genitori, non hanno dei genitori che hanno una cultura musicale, è per questo che in giro c'è solo musica di merda!